Maddalena Svevi criticata sui social, lo scivolone con ad amici le costa il consenso dei fan. Le parole che Maddalena Svevi ha rivolto a Mattia Zenzola ad amici rischiano di avere un effetto sul futuro della ballerina nel talent show di Maria De Filippi. Lo dimostra quanto sta accadendo sui social, con il profilo Instagram dell'allieva di Immanuel che è stato preso di mira dagli spettatori del programma. Centinaia sono i messaggi di Biasimo pubblicati sotto l'ultimo post condiviso da Maddalena. Messaggi che palesano l'effetto prodotto dalle dichiarazioni di Maddalena sugli spettatori del programma. Ad avere pensato sulla condizione di Maddalena potrebbe essere stata principalmente la scelta di non fare marcia indietro. Nonostante la lacrime di Mattia, comprensibilmente ferito dalle dichiarazioni della ex fidanzata e della partner di Ballon Benedetta Vari. La ballerina non si è scusata. Al contrario, ha ribadito di avere solo dato voce ai suoi pensieri e al fastidio nei confronti del ballerino di Raimondo Todaro. Benedetta, al contrario, si è immediatamente scusata con Zenzola per i toni e i termini utilizzati. Quanto sta accadendo sul profilo Instagram di Maddalena nelle ultime ore potrebbe avere un peso sul futuro della ballerina ad amici. Sono diversi i compagni di talent che hanno più volte accusato Maddalena di essere particolarmente interessata a follower e consensi. Se fosse vero, quanto accaduto potrebbe finire per ritorciarsi contro la ballerina. E non solo, la finale di Amici, se Maddalena dovesse riuscire ad accedervi, sarà regolata dal televoto espresso dal pubblico a casa. Pubblico che ha già condannato Svevi a causa di quanto accaduto con Mattia e che potrebbe negarle il suo sostegno.